Il modo migliore per imparare a programmare è uno solo, programmare. In questa lezione quindi scriverete la vostra prima riga di codice, quindi vedremo nella pratica come funziona JavaScript. Nel corso di questa lezione e anche delle prossime lezioni scriveremo del codice con Sublime Text e in questa lezione e anche in molte altre troverete una cartella con all'interno già dei file HTML, CSS e JavaScript con del codice HTML e CSS già impostato, così che potete scrivere e potete fare in pratica con il codice JavaScript con dei file preimpostati. Sotto questa lezione potete trovare una cartella con all'interno i seguenti file. Una pagina HTML con all'interno già del contenuto, un file JavaScript e dei file CSS con del codice già impostato. Ora in questa lezione inizieremo subito a scrivere il codice e nella prossima poi vedremo come creare un file JavaScript, come inserirlo all'interno della pagina, quindi i vari modi con cui si può inserire il codice JavaScript. Ma in questa lezione vediamo un attimo prima con mano come funziona il codice JavaScript. Apriamo un attimo il file, quindi index.html. Come vedete è un semplice sito con un titolo e in questo sito e in questa pagina inseriamo il codice JavaScript, quindi sublime text e lo scriviamo appunto qua dentro, su script.js. Iniziamo a scrivere un'istruzione. In pratica ogni riga che scriviamo sarebbe un'istruzione e un insieme di più istruzioni, quindi di più righe, compone un programma. Ora scriviamo alert e le parentesi tonde. Ora vediamo cosa succede. Salviamo, facciamo refresh e ci appare un pop-up. In questo caso non c'è alcun messaggio, quindi la funzione alert in pratica fa apparire un pop-up con un messaggio e come inseriamo il messaggio lo inseriamo all'interno delle parentesi. Quindi per far sì che il messaggio appaia inseriamo le virgolette e possiamo scrivere hello world. Salviamo. Se facciamo refresh la pagina ci dice hello world. Quindi il comando alert è un comando già preimpostato sul browser e ce ne sono molti altri. Ora come abbiamo detto questa è un'istruzione e possiamo inserire più istruzioni all'interno del programma e possiamo separarli attraverso il punto e virgola. Quindi scriviamo un altro comando document.write Ovviamente poi vedremo nel dettaglio tutti questi vari comandi e cosa vogliono dire. Ora inseriamo le parentesi e possiamo inserire un altro messaggio. E questo comando fa sì che un messaggio appaia sul browser. Quindi salviamo. Quindi come vedete prima ci appare hello world. E poi attraverso questo comando document.write abbiamo inserito un messaggio all'interno della pagina. In pratica document si riferisce a dove viene scritto il messaggio e write poi vedremo meglio cosa vuol dire questo punto. Vuol dire che appunto dobbiamo scrivere un messaggio all'interno del documento. Ora possiamo scrivere un altro comando, un altro alert. Sempre tra virgolette. Poi ovviamente vediamo anche cos'è questo messaggio e perché tra virgolette. Quindi facciamo refresh. Prima ci appare hello world. Poi la scritta e poi l'alert. Quindi in pratica quello che abbiamo fatto ci serve per capire due concetti fondamentali. Primo, un programma è una sequenza di istruzioni che vengono eseguite una dopo l'altra. Quindi in questo caso prima viene eseguito l'alert, poi il document write e poi l'alert. E il secondo concetto fondamentale è che un'istruzione viene eseguita solamente quando viene completata l'istruzione di prima. Quindi il messaggio ciao mondo apparirà sul browser solamente dopo che viene conclusa l'istruzione hello world. Bene, avete scritto il vostro primo programma. E nella prossima lezione vedremo come inserire il codice all'interno della pagina.